salve ragazzi torno con un nuovo video e vi insegnerò a risolvere questo cubo 2x2x2 ok prima di tutto risolveremo la faccia bianca però con un certo senso con anche questo strato risolto quindi come facciamo trovo questo angolo che è bianco e verde vado a trovare l'altro bianco e verde bianco eccolo qua e lo vado a portare sopra a dove deve andare quindi qua e poi lo porto giù e inserito con lo strato di sotto messo bene ora devo trovare uno bianco e rosso va messo qua lo trovo e lo vado a portare qua quindi per metterlo non devo fare così che se no si mette qua lo porto su giro lo strato e porto giù ok e si è inserito con lo strato di sotto risolto ora vado a trovare l'ultimo che sta qua sopra lo porto qui dove deve andare e faccio questa questa cosa su sinistra giù destra l'abbiamo portato giù e lo rifaccio su sinistra giù destra e lo rifaccio per rimetterlo su sinistra giù destra e si è messo ora devo girare così lo strato e rifarlo su sinistra giù destra su sinistra giù destra e si è messo ora cerco se ci sono strati sotto risolte tipo questo non è risolto questo non è risolto questo non è risolto questo invece si porto la faccia gialla in alto la porto quella faccia risolta che non è n gialla n bianca a sinistra e faccio questo argoritmo su 12 a sinistra giù lo strato di destra destra lo strato sopra su lo strato di destra di due lo strato di sopra di uno in su lo strato di sinistra di uno in giù in qua a sinistra lo strato di sopra giù lo strato di destra in basso lo strato di sopra lo giro a destra e porto giù lo strato di sinistra e il nostro due per due è risolto ciao 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 ciao